Nelle casse comunali arriveranno oltre 6 milioni di euro proventi delle infrazioni al codice della strada nell'anno appena trascorso. La maggior parte delle multe sono state combinate grazie ai vistare e dei semafori che registrano chi passa con il rosso. Nel 2021 gli infrattori sono stati 13.875 mentre le multe per eccesso di velocità 5.326. 33.578 i punti decurtati dalle patenti di guida 358 mila euro invece le cifre legate all'evasione dell'IMU. La sezione della polizia giudiziaria che ha partecipato attivamente al lavoro di prevenzione del fenomeno delle baby gang si conferma al fiore all'occhiello della municipale di Alessandria che oggi in una conferenza stampa ha dato i numeri della sua attività. Abbiamo anche rinnovato la nostra tecnologia grazie all'intervento importante da parte dell'amministrazione comunale che mi ha dato delle indicazioni che ci ha dato delle indicazioni per innovare la tecnologia. Ci siamo dotati dei droni abbiamo completato la formazione e la fornitura delle body cam che a breve partiranno sulle uniformi degli operatori della polizia locale accanto a tutta quella che è la nostra tecnologia che potrà essere certamente di ausilio per il prossimo futuro. Grazie. 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 Grazie.